Sono Stefano Frontini, consulente Repower specializzato in piccole e medie imprese. Recentemente il titolare di un'azienda che si è affidato a me per la fornitura di energia elettrica e gas mi chiama e mi dice che il vecchio fornitore sta per applicargli una penale. In realtà la legge stabilisce che per i clienti di piccola dimensione il diritto di recesso non può essere sottoposto né a penale né a spese di chiusura. Con questi riferimenti normativi il cliente è riuscito ad evitare l'applicazione della penale da parte del vecchio fornitore. Come faccio a stabilire se il cliente è di piccola dimensione? Per quanto riguarda l'energia elettrica basta verificare nella bolletta che la fornitura sia in bassa tensione. Per quanto riguarda il gas basta verificare che i consumi annui siano inferiori ai 200.000 m3 anno. Esiste anche un ente pubblico, lo sportello del consumatore, a cui rivolgersi per far valere i propri diritti. La norma che definisce il recesso è la delibera dell'autorità di regolazione 302 del 2016 e il sito dello sportello del consumatore è www.sportellodelconsumatore.it Stefano Frontini, consulente Repower, l'energia elettrica verde in carne ed ossa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.